Buongiorno, mi chiamo Bertolini Emanuele, sono nato nel 1962 e svolgo l'attività di meccanico nell'officina situata in via Ghete. Candido come consigliere comunale per la città di Merano col candidato sindaco Otto Waldner. Tutti mi chiedono perché mi candido con il partito dei Freiheit. È un partito che apre sia agli italiani che ai tedeschi. Discutendo con loro ho capito che hanno i miei stessi interessi. Prima cosa la sicurezza che ultimamente manca, la pulizia della città e in terza cosa un po' di burocrazia in meno anche per noi artigiani.